Allora caro Gianni come sta andando questa stagione nella tua nuova postazione qua vicino ai giardini a lago in attesa di capire dove sarai messo sul nuovo lungolago Allora come sta andando Gianni comunque questa stagione e soprattutto mi dicevi lago preoccupante e sporco Allora la stagione sta andando bene però c'è una cosa molto grossa e grave che il lago è sporchissimo a me non me ne frega proprio niente la diatriba tra comune e amministrazione provinciale la cosa vergognosa come dicevano una volta mi cicchi no, tita cicchè no ma la cicla è sul cumo il lago è sporchissimo io oggi ho preso un tronco a rischio di andare a fondo Ecco perché con i vostri barchi, con le vostre imbarcazioni se si prendono dei tronchi Ma non solo noi, non solo voi, certo tutti, c'è in giro dei tronchi e i battelli sono tutti fermi la signora amministrazione provinciale ne ha comparati altri tre e sono fermi più gli altri due e sono fermi è una cosa vergognosa vergognosa